ciao ragazzi questo è il motore del mio si vedete carter speed engine blocco motore polini 65 testa polini a scoppio centrale allora avevo un problema arrivato a 55 60 km orari cominciava a scoppiettare sono andato per esclusione ho sostituito il condensatore niente ho sostituito le puntine non ho risolto niente ho sostituito la bobina quella che porta corrente al motore che porta corrente alla candela e non ho risolto niente allora ho rifatto il cavo nero questa è la parte che va attaccata alla bobina e quindi il cavo è nuovo ho montato il motore nuovamente niente arrivati a 55 60 km scoppiettava a quel punto ho detto ho cambiato anche tutto il cablaggio del motorino escludevo anche quello che il cablaggio non fosse fatto bene alla fin fine ho trovato il colpevole questo avvolgimento qui il solenoide che porta corrente alla bobina guardate qui sotto eccolo qui è sfilacciato e mi faceva contatto con i carter perché questo viene montato in questa maniera mi faccio vedere come andava qui vedete è proprio in questa parte veniva schiacciato dalle puntine e pizzicato vediamo se riesco ad ingrandire vedete qui è stato pizzicato dalle puntine perché le puntine si montano qui schiacciato e mi andava a fare contatto con il carter quindi mi disperdeva corrente ecco perché avevo quello strano scoppiettivo ora lo sostituirò con uno non dico nuovo ma usato in buone condizioni e spero di aver risolto cercherò anche di trovare la maniera di riutilizzare anche questo mettendo una guaina termorestringente per ripararlo e vi aggiornerò comunque l'importante è sempre essere curiosi e andare a fondo per risolvere i problemi spero di aver risolto e vi aggiorno ciao ragazzi ciao 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 ciao